Prima non c'era, ora c'è sinteticamente la parabola di un piccolo sogno che finalmente si avvera, quello della Casa delle Donne che apre oggi le sue porte in Viangelo con la Grande all'Aquila. Ospiterà il Centro Antiviolenza, uno spazio finalmente adeguato, la Biblioteca Melusine, la sede dell'Associazione Terre Mutate, una realtà nata dopo il sisma che non ha mai smesso di incontrarsi e mobilitarsi creando una rete solidale al femminile nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nell'arte. Le attività sono, innanzitutto partiamo dai luoghi che sono il Centro Antiviolenza e la Biblioteca delle Donne che ricordiamo sono luoghi che esistono all'Aquila già da tanti anni, che sono stati un po' nascosti perché sempre ospitati, oggi anche loro hanno una loro casa come possiamo vedere e quindi saranno attività importanti perché il Centro Antiviolenza come sappiamo è un luogo di riferimento per tutte le donne che hanno, che chiedono aiuto, hanno bisogno di essere aiutate in vario modo e in varia misura. La Biblioteca delle Donne è un luogo di lettura, di relazioni, di cultura, di valore nei confronti del pensiero femminile e femminista a cui noi teniamo tantissimo. Abbiamo un'idea di questa casa come un luogo fisico in cui tante donne possano realizzare questo osservatorio di genere, quale strumento per mettere insieme più dimensioni, la dimensione storica, la dimensione sociopolitica ma anche la dimensione attuale. Prima non c'era, ora c'è e in futuro prossimo ci sarà ancora di più. La sede di Viangelo Colagrande è infatti solo provvisoria, grazie infatti ad un protocollo d'intesa firmato a giugno tra Comune e Provincia dell'Aquila, la casa definitiva delle donne sarà ospitata negli ampi spazi dell'ex orfanotrofio di Collemaggio, a fianco alla Basilica. Non appena saranno conclusi i lavori di ristrutturazione post-sismica.